Credo che effettivamente intanto il metodo con cui arriviamo oggi a questa discussione di bilancio sia di per sé il principale punto debole di questo bilancio. Conosco già le obiezioni o le controrisposte possibili, però erano stati presi degli impegni sui tempi della trattazione di questo bilancio, siamo ormai a metà luglio e anche quest'anno, per il terzo anno sui cinque di amministrazione, non sarà possibile effettuare un bilancio preventivo degno di questo nome. La data influisce ovviamente sul metodo e il metodo influisce sulla data. Io so che l'assessore Balzani sta lavorando concretamente a delle pratiche di bilancio partecipato per il Comune di Milano e sono certo che farà un ottimo lavoro su questo, però non possiamo che constatare, visto che l'avvicendamento degli assessori non può togliere l'esistenza di una continuità dell'amministrazione, di una responsabilità che fa capo al sindaco e alla giunta tutta come collettivo, che dopo oltre tre anni di giunta a Pisapia noi non abbiamo avuto ancora alcuna procedura embrionale di bilancio partecipato. Posso dirvi che l'elenco delle priorità che l'anno scorso c'erano, quest'anno non c'è perché le priorità le faremo dopo l'approvazione del bilancio, l'anno scorso le avevamo fatte perché eravamo a novembre, quindi a un certo punto ho mandato avanti gli uffici e che vi abbiamo dato conto in sede di consiglio e di dibattito, quest'anno le priorità 2014 non ci sono, le definiremo dopo il bilancio, posso dirvi sicuramente quattro cose che certamente saranno finanziate.